Mancano meno di due mesi ad uno degli eventi sportivi più importanti fra quelli che si svolgono in città, la Parma Mezza Maratona, organizzata dal Cuse in programma domenica 12 settembre con partenza arrivo in piazza Garibaldi. Un evento che tornerà dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia e che avrà a reale mutua come title sponsor. L'agenzia CFC di Parma riconferma infatti il proprio sostegno al ruolo di partner della manifestazione che vedrà atleti provenienti da tutta Italia affrontare la 21 km, la Corsa Regina o la 10 chilometri. Un'edizione forzatamente ridotta a causa delle restrizioni covid che, salvo nuovi scenari da valutare nelle prossime settimane, ad oggi è rivolta ai soli agonisti con un massimo di 1500 partecipanti. Nella stessa giornata piazza Garibaldi ospiterà anche la cittadella della salute come due anni fa in occasione dell'ultima edizione disputata, quando l'agenzia reale mutua mise a disposizione di tutti, non solo degli atleti, un apprezzato check-up con consulto medico. Anche per la mezza maratona 2021 dunque CFC ha pensato alla promozione di servizio alla persona nell'ambito della telemedicina, che rappresenta uno dei più promettenti orizzonti di sviluppo nel panorama sanitario. Le iscrizioni alla mezza maratona, aperte poco più di un mese fa, hanno registrato un vero e proprio boom nei primi giorni, ma vi sono ancora posti disponibili prima di arrivare all'inevitabile tutto esaurito.